Ok, buonasera a tutti e benvenuti su MeetScience. Ok, oggi sono io che sono Daniele Ceravolo e parleremo principalmente di questo libro. Per iniziare la stagione, questa volta niente interviste, per questa volta, e sì, volevo parlarvi un po' del libro di Tristan Nidam, Geometria Referenziale e Forme Visuali, in un qualche modo. Ok, aspettiamo un attimo in un po' di gente, oppure no, dai, meglio partire se ci saranno domande, poi possono farle e ne discutiamo. Ok, spero mi riusciano a sentire tutti, in caso mandatemi un commento. Ok, di cosa voglio parlare di questo libro è un po' strano, perché non usa un approccio che è il solito, per quella che è la geometria differenziale. E il motivo è che è un approccio più geometrico, in un qualche modo, tende ad essere un po' lontano da tanta algebra, è un po' più leggero rispetto ad altri, e ha anche una scelta di argomenti che è un po' particolare, in un qualche modo, come adesso vedremo anche un po'. Mi piace molto l'intro, che dà nella prefazione, che inizia con una citazione di Atia, che appunto di leggere è anche completa, per quanto racchiude anche un po' lo spirito del libro in sé, secondo me è quello che vuole dire. Dice, come vedete, dovresti uscire a leggere, sì, 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 l'algebra è l'offerta fatta dal diavolo al matematico. Il diavolo dice, io ti darò questo potentissimo strumento, che ti risponderà a ogni domanda che tu vorrai. Tutto quello che mi dovrai dare è la tua anima, devi darmi la geometria, e avrai questo strumento meraviglioso. Il pericolo alla nostra anima è lì, perché quando passi al calcolo algebrico, essenzialmente tu smetti di pensare. Smetti di pensare geometricamente, e smetti di pensare a proposito del significato. Ora, per fare questo, per quanto riguarda questo, è una cosa anche abbastanza interessante, no? Perché spesso quando uno studia di un'intera differenziale, si trova proprio a dover manipolare termini, si ritrova con un sacco di definizioni, di cose, e le cose si fanno più complicate. Qui anche lui fa un bel commento, poi sotto, se uno vede che, quando parla di maturità matematica, perché lui dice che spesso, a volte ritrova un po' di meraviglia quando svolgeva certi conti, certe cose, perché alla fine si semplificava tutto, no? Sparivano dei termini che erano lì. E lui dice che adesso sento un po' imbarazzato di pensare ad alcuni momenti, perché in realtà quelli significano solo che lui era sbagliato a metterli lì da principio. E quindi sì, quindi quello che lui cerca di fare è che riesco a spiegare questa cosa, senza dover passare per questa strada lì e averne una un po' più geometrica. E diciamo che grossomodo ci riesce, nel senso che, con un po' di caveat, che poi magari discutiamo un po'. Quindi, allora, innanzitutto fa una cosa un po' strana, ma questo per tutto il libro. Sostanzialmente lui non usa il calcolo differenziale alla Leibniz, ma usa quello di Newton, proprio quello di Principia, il metodo sintetico dei fluxioni, per fare le sue cose. Che sostanzialmente è anche un modo più che altro per semplificare un po' la notazione e poter dire alcune cose in maniera più semplice, no? Qui lo fa vedere in un qualche modo. Anche questo è il ragionamento, peraltro questo grafico, per chi di voi ha letto l'altro libro in idam, anche molto bello, forse un po' più pesante rispetto a questo, che è l'analisi complessa visuale, Visual Complex Analysis. Si ritrova lo stesso calcolo, fatto in una qualche maniera, no? Con la stessa uguaglianza. Però, sì, è in un qualche modo che sacrifica anche un po' di rigore per fare queste cose. Però questo qui rende anche un libro facile da leggere, secondo me. E' proprio piacevole, per esempio, io non ho letto anche parecchio senza dovermi soffermare. E fa un sacco di cose. Non so come primo libro come funzioni, nel senso che è uno che non abbia mai visto la materia in sé. Probabilmente è meglio affiancato da un altro libro, specie se uno ha intenzione di fare il matematico, dove appunto ha bisogno di imparare a manipolare anche, a fare lo strumento del diavolo che è l'algebra, per fare le cose, no? Però è molto bello anche perché lui traccia una linea storica, spesso, per fare le cose. Dalle origini mette anche cosa hanno pensato le varie persone, come si sono arrivate a un certo problema, come sono uscite a definire i vari termini. Per esempio, come faceva anche Riemann, ma anche Einstein addirittura, a sviluppare certe cose senza un'emozione di trasporto parallelo, che è comunque un'emozione successiva alla loro. Lui fa varie ipotesi, però si va anche a recuperare i documenti iniziali e tutto quanto. Sì, ringrazio. Come potete vedere c'è un bel po' di cose. E varie cose mi sono piaciute. Innanzitutto è molto bello perché connette varie ed diverse. Per esempio c'è una parte molto bella in cui parla di trasformazioni di mebius, parla di trasformazioni di conformi e altro, e fa un bellissimo collegamento con la relatività speciale, questo all'inizio, che è anche un po' difficile da vedere. Vabbè, poi riprende alcuni concetti, alcune cose che ha visto con il Visual Complex Analysis, no, se vi ricordate, l'Amply Twist, per gli altri che avevano letto quel libro, e altre cose. Però c'era qualcosa di molto bello, che volevo far vedere. Poi appunto, ah, poi sì, è Visual Complex, Visual Difference Geometry, perché ci sono circa 350 grafici disegnati a mano, qualcuno con matematico, oppure appunto qui per esempio prendo questa sinografia famosissima di Escher, la modifica, no? Per dire appunto, questo è il modelli disco di Bertrand Moncarré, e come vedete dice, ok, ma se io applico una certa trasformazione, lo posso vedere così, in qualche modo posso apprezzare anche questi certi tipi di geometria, in questa maniera. E lo fa sempre, come trattazione storica, un capitolo, poi dà anche tante dimostrazioni diverse, quindi anche lì è un po' interessante, no? Per esempio, per il teorema igreggio di Gauss, da circa tre dimostrazioni estrinseche e una intrinseca, usando l'olonomia, ed è bello perché appunto da anche le nostre azioni sono un po' diverse rispetto a quelle che si vedono di solito, no? Quindi, anche se uno già conosce la materia, è anche interessante pure per quello, perché fa vedere altre tecniche e alcune altre cose. E una cosa che non ho visto, che probabilmente sono anche molto interessanti, sono gli esercizi. E lì appunto uno vede anche la differenza tra un buon libro e un cattivo libro. Purtroppo ancora non sono riusciti a farli o vederne qualcuno. Quindi c'è anche questo da dire. Altra cosa che secondo me lui fa in maniera molto interessante, è che ovviamente, verso questo, verso Pangino Trecenti, che è il capitolo più sostanzioso, è quello lì dedicato alla relatività generale di Einstein. Questo appunto si chiama il sottotitolo, è un drama in cinque atti, e uno degli atti, che è quello più lungo e tutto, fa vedere appunto come viene fatta la relatività di Einstein. Ed è anche interessante pure se già conoscete un po' le cose. Per quale motivo? Beh, perché lui parte sempre da uno spirito più genetico e fa le cose meno un po' diverse. Dice, ok, ma Einstein, quando pensava a questa cosa, come stava ragionando, no? E quindi da lì riesce un po' a ricavarsi anche l'equazione di Einstein, a vedere appunto com'era la forma iniziale di queste, come vengono poi modificate, e via. Forse è quello il capitolo un po', quello è un po' dove sono arrivato un po' a leggere, ed è il capitolo più, forse anche un po' più devole direi, anche perché c'è veramente anche tanto da fare, lo fa anche di corsa. Beh, poi lui si diverte anche parecchio, per esempio qui a vedere, qui ad esempio fa un della frutta, no? Dice, ok, come posso ragionare, per esempio, nel vedere come sono fatti i campi vettoriali su delle superfici di un certo tipo, no? E qui lì per esempio prende, appunto dice, ok, prendo una banana, la ricopro di miele, che è una sostanza che comunque riesce a essere attaccata, e vedo come si comporta. Ma vabbè, poi fa una mappa sotto, topografica di queste cose, e vede cosa ci può dire, questa cosa. Sì, tra i vari collegamenti a fare, che lui ha anche parecchia fisica, su cose di questo tipo. Quindi, direi, sì, il superfici di Janos Squale, è un libro che mi sembra piaciuto avere molto, quando iniziavo a studiare queste cose. Adesso comunque è interessante, da vedere, secondo me va in un qualche modo apprezzato anche, no? Sì, qui appunto, come ciò fa, tutta la parte qui di genere preferenziale, nel senso di utilizzare il trasporto parallelo, infatti io direi sì, è un problema perché, come, c'è un pazzo, il problema di storico appunto, è che non sapevano come facevano a fare le cose, senza avere il trasporto parallelo, più che altro è che lui ha fatto tutto prima che la vecivita, cioè, vedi come dice qui appunto, la vecivita qui nell'immagine, dove si riuscirà a vederla, dice ok, ma c'è un problema serio, come ha fatto Einstein a fare tutto questo, senza avere una nozione dello trasporto parallelo, che è del 1917, e la teoria dell'attività generale di Einstein è del 1915, vabbè, e poi qui da appunto, quello lì, tendenzialmente, fa comunque geometria differenziale in maniera intrinseca, nel senso che non è che immerge le superfici in spazi più grandi, quindi tutta la parte strinseca non la fa, si diverte anche a sbucciare verdure, come potete vedere qui, per esempio con arancia, vedete appunto cosa vuol dire, in un qualche modo, cerchi di dare un significato di quel tipo, alle cose che si fanno, sì, alcuni esercizi sono per sbucciare verdura, gli serve anche perché così uno può ragionare meglio con delle superfici 2D, non disegnate, ma semplicemente, cioè proprio fisica, in un qualche modo, vabbè, e alla fine vedi, qui dalla superficie, dalla teorema fatto con l'ononomia, lo dimostro l'ononomia, e qui volevo arrivare a Einstein, non ho letto ancora il quinto atto in realtà, che è quello lì delle forme differenziali, sì, vabbè, qui come passa, ma troppo la gente li fa in, appunto con le superfici di due dimensioni, tre dimensioni anche, e poi passa nelle dimensioni, cerca poi di dimostrare, comunque diciamo che è un sketch di dimostrazione per le dimensioni, per chi gli interessa, quindi non so questo libro come viene preso dai matematici, considerando che tende appunto a sacrificare un po' di rigore per dare un po' l'idea dietro alla teoria, quindi qui spiega come fare le varie cose con Riemann, sì, tra l'altro è interessante, un'altra cosa che non sapevo appunto, vedere come, prendendo delle carte di Riemann, trovate anche in maniera un po' casuale, hanno trovato che aveva dimostrato in qualche modo le identità di Bianchi in un maginetto, a un angolo, però poi scartate, cioè, è anche strano vedere, proprio perché fa questa artituzione esplorica, che spesso manca, forse facciamo un po' il libro quello in cinque volumi, molto famoso di Spivak, c'era anche lì all'inizio, un po' di trattazione storica, di come si è arrivato a certe idee, però, questo si legge, non è un mattonazzo, diciamo, in qualche modo, anche che parla di una varietà di idee molto molto larghe, e infine appunto, questo è il capitolo più sostanziale, va un po' a parlare della relatività di, di essere, è anche una bella nozione fisica lui, delle cose, in un qualche modo, ecco, va bene, da, la tetrada, beh, come tutte le cose di Einstein, fa l'educazione di, onde gravitazionali, e, vede, alla fine, si ritrova con l'equazione di Einstein, ok, e poi va bene, metterla soluzione con, quindi, sì, questo è un video un po' più breve, è giusto, parlare di questo libro, che, a me piaceva più che altro, perché mi era capitato di leggere l'altro, in triennale, quello, una istituzione complessa, e quindi, questo l'ho aspettato anche, parecchio, in un qualche modo, dice un libro che volevo leggere, poi le cose, comunque uno se ne trova e tutto, presentato in questa maniera, no, eh, decisamente non ho mai viste, però, secondo me è uno di quei libri, che vale un po' la pena, anche perché, chiude, un po' quella che è una, quella lì che è un buco, che c'è spesso, quando uno studia alcune cose matematiche, perché, eh, i libri per, eh, tecnici ci sono, eh, però tendono ad essere un po' pesanti, e non troppo a collegare, le idee, no, le ottieni, però molto molto, se vanno in profondità, qui invece i risultati riesce a collegare bene, riesce a collegare bene tante parti di fisica, sa che lì ha appunto un po' il rigore, però appunto uno in rigore se lo trova, eh, se ha bisogno, se ha voglia, e quindi, sì, direi che, queste sono un po' le cose che volevo dire, su, questo libro, ho parlato anche un, 15-20 minuti, quindi direi anche che, va bene, se ci sono domande, mandate qui, oppure mandate anche una mail, forse non lo scrivete sotto nei commenti, ma, eh, vedete un po' voi, no, oppure vendite su scienza, che ne parliamo, eh, su Telegram, quindi, vabbè, buona, sera a tutti, e, seguiteci, mettete, sottoscrivete al canale,